Veneto orientale in difficoltà a causa del maltempo. Piogge intense, vento con raffiche molto forti, tuoni e perfino fulmini hanno colpito il territorio. Alcune zone come a Porto Gruaro sono andate sott'acqua con allagamenti anche nelle abitazioni. Sono caduti alberi e cartelli stradali, numerose da ieri sera le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco che hanno eseguito numerosi interventi in più parti del territorio. Sui luoghi in difficoltà è entrata in azione anche la protezione civile. Giovedì mattina pesanti ripercussioni anche sulla linea ferroviaria Venezia-Udine-Trieste per alcuni guasti ai sistemi di stanziamento dei treni provocati dalle forti scariche atmosferiche che si sono abbattute sulla zona. Il maltempo è stato anche la causa di numerosi incidenti stradali su alcune arterie del Veneto. Il centro funzionale decentrato della regione del Veneto, in riferimento alla situazione meteo e al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e l'operatività del sistema di protezione civile, ha dichiarato fino alle 18 di venerdì 4 marzo lo stato di attenzione. È stato attivato anche il servizio di piena del fiume Livenza e sono stati segnalati problemi idraulici nella zona della Porto Gruarese.